Oggi è il 17 novembre. 1869, inaugurato il canale di Suez. 1973, Atene, gli studenti insorgono contro i regime militari. 1989, Praga, inizia la rivoluzione di Velluto. Commenta il fatto del giorno Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. Oggi facciamo gli auguri a Carlo Verdona, che compie 70 anni.